possa esistere, per cui è importante che la risposta democratica sia grande, sia fondamentalmente concentrata in quel luogo proprio per rispondere a quelli che sono tutti i tentativi di ricurgito del fascismo. Ripeto, noi siamo in contatto con la Questura, abbiamo richiesto anche quest'anno come gli altri anni un incontro con il prefetto, stiamo attendendo la risposta alla nostra richiesta di incontro per ancora una volta ribadire come sia possibile concedere spazi pubblici a questi elementi che sono in completa contraddizione con la Costituzione della Repubblica che parla chiaro, dove dice nella dodicesima disposizione transitoria finale che è vietata la ricostituzione del partito fascista, ma non solo ci sono sentenze della magistratura ultima, quella della Cassazione di due giorni fa, dove dice che il saluto romano nemmeno quando è in fase commemorativa, diciamo così è considerato reato in questo caso, cioè, no ho sbagliato, neanche in fase commemorativa può essere considerato reato, per cui, e qui siamo di fronte proprio a quello, perché quello che avviene a Giurino di Mezzegra, quello che avviene a Dondo è esattamente quello.